Ciao, ciao, ciao! Ti chiami Riccardo? E un bel nome? E avevo detto, era anche Riccardo, e tu invece? Enzo, mamma mia! Sei molto fermato, sai che io parlo 74 litri. E tu invece? Già Luca, questa barbetta, proprio carina. Senti, sul prossimo, sei fantastico! Davide, bravi! Bravissimi! Ciao! Ciao, ciao!